Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. È morto l'uomo di Mira in provincia di Venezia che era stato ricoverato per le complicanze da coronavirus. Mario Veronese era stato colpito da una polmonite che aveva richiesto il suo ricovero in terapia intensiva. Il decesso però, secondo le notizie che abbiamo, sarebbe avvenuto per una emoragia cerebrale. Dovrà essere ora eseguita l'autopsia per comprendere il nesso tra Covid-19 e il decesso. Intanto continuano ad aumentare i numeri dei contagiati in Veneto. Ad oggi pomeriggio i numeri dei positivi erano di 274 casi. 8 sarebbero ancora in terapia intensiva. E come è ormai noto, sono numerosi i provvedimenti del governo che mantengono chiuse scuole e università. Così molti luoghi dove vi è una presenza massiccia di persone. Restano sospesi tutti gli eventi di spettacolo e varie manifestazioni. Ricordiamo ovviamente molto importante sempre la prassi per cercare di evitare il contagio. In primis lavarsi sempre le mani, evitare il contatto ravvicinato con le persone mantenendo almeno un metro di distanza. L'emergenza sanitaria si sta ampliando in Italia. I numerosi casi che iniziano a manifestarsi anche nelle regioni che fino ad ora erano rimaste escluse. I dati più preoccupanti però riguardano la Lombardia. In questa regione le persone ricoverate in terapia intensiva sono oltre 100. E da qui nasce la necessità anche di recuperare nuove aree di terapia intensiva. In tutta Italia i numeri parlano di 1.500 contagiati. 41 ad oggi pomeriggio i decessi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità la mortalità da noi è più alta rispetto a quella cinese. E sono disponibili 6.600 posti in 80 caserme italiane. Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono già disponibili circa 80 caserme per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla difesa dopo una verifica delle disponibilità da parte del Comando Operativo di Vertice. E continuiamo ancora a parlare di coronavirus. E delle conseguenze non solo sanitarie ma anche quelle economiche che sono davvero drammatiche per le aree colpite. Questa mattina si è svolto in Regione Veneto un tavolo di concertazione con le categorie economiche. L'assessore Marcato dice massima condivisione tutto il nord è zona rossa per l'economia. Serve mettere liquidità per rilanciare le imprese. Ma sentiamo un assunto di quello che è stato questo incontro davvero importante. Il mondo dell'economia veneta riunito al tavolo di concertazione con la Regione Veneto. Presenti le varie categorie economiche e i principali enti fieristici. Lasciando da parte l'aspetto sanitario tutto il nord Italia è zona rossa economica e come tale va trattato, ha detto l'assessore regionale Marcato. Se si ferma l'economia di Lombardia, Veneto ed Emilia significa che si ferma l'intero paese. È il momento di ragionare in maniera unitaria, di raccogliere le istanze e portarle al governo perché siano presi i provvedimenti per rimettere in moto il nostro sistema economico. Sono state raccolte le varie richieste e verrà redatto un unico documento da inviare a Roma. Le moratorie non bastano, serve liquidità alle nostre imprese per ripartire e a questo punteremo. L'auspicio è che tale documento possa essere condiviso con le altre regioni. Lombardia ed Emilia Romagna ribadisce l'assessore regionale allo sviluppo economico perché quel che è chiaro è che questa è una situazione che va affrontata in maniera unitaria. L'assessore infine ha annunciato che nei prossimi giorni verrà messo in agenda un incontro con i rappresentanti del mondo delle banche. Convocheremo gli istituti di credito appuntualizzato perché serve che le banche abbiano un atteggiamento adeguato alla situazione. Le imprese devono essere supportate dalle banche per rimettersi in piedi. La regione ha già attivato la sezione speciale presso il fondo centrale di garanzia per aumentare la possibilità di far credito alle imprese. Oltre a convocare le banche, ha spiegato l'assessore, stiamo ragionando sull'attivazione di contributi a fondo perduto. Faremo tutto quanto ci è possibile. Dunque vi terremo aggiornati anche con le prossime edizioni sulle misure che verranno intraprese per il settore economico. E' una notizia che arriva da Cortina invece per gli amanti dello sci per evitare assembramenti eccessivi. Cortina si adegua alle necessità e alle imposizioni del momento. Il servizio di Funivia riduce il numero dei passeggeri. La diminuzione degli assembramenti di persone per prevenire il contagio da coronavirus è stato applicato anche negli impianti di risalita a Cortina. Nelle cabine della Funivia che porta al Monte Faloria, la capienza massima è stata oggi portata da 50 a 15 persone, aumentando la velocità delle corse. Già nei giorni scorsi, per iniziativa volontaria, il numero dei passeggeri era stato diminuito. Per far fronte alla situazione è stata aumentata la velocità del viaggio. A disposizione degli sciatori resta comunque anche l'asseggiovia. Fine settimana drammatico sulle strade del Veneto. Una donna di 50 anni di colonia Veneta ha perso la vita in un incidente avvenuto sotto il cavalcavia autostradale del casello di Montebello Vicentino. Era a bordo di una Fiat Croma che si è scontrata con un Audi A3. Per lei l'impatto è stato fatale. Ferite altre quattro persone che sono state trasportate all'ospedale. E poche ore più tardi, nel cuore della notte, tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti invece lungo la 4 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest con direzione Venezia. Anche in questo caso si è verificato uno scontro tra due auto e sono rimasti feriti entrambi i conducenti che sono stati trasportati all'ospedale. E ancora dalla provincia di Padova, una donna di 79 anni che viaggiava in auto con la figlia è morta in seguito a un incidente avvenuto a Conselve in provincia di Padova. Ferite altre quattro persone. E sempre un altro incidente è avvenuto oggi alle 13.30 in via San Giovanni lungo la strada provinciale 8 a Orgiano. Un'automobile guidata da una donna di 42 anni è uscita di strada per causa ancora da accertare. La donna di origine moldava è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 ed è lì trasportata all'ospedale. E dalle prime ore dell'alba di oggi è scattata un'operazione della Polizia di Stato per la sicurezza del territorio. Un'operazione coordinata dalla Polizia di Stato e condotta dalla squadra mobile di Brescia. Numerose le città coinvolte, non solo in Italia. Sentiamo. Operazione della Polizia di Stato in varie regioni del nord Italia contro reati di diversa natura. L'attività è stata svolta dalla Polizia di Stato e in particolare dalla squadra mobile di Brescia. È stata denominata Operazione Kitchen. È coordinata dal servizio centrale operativo con la collaborazione delle squadre mobili di Alessandria, Como, Monza e Brianza, Pavia, Ferrara e Verona e con la collaborazione delle polizie del Belgio, Albania, Germania, Spagna e Romania. Sgominata un'organizzazione criminale che agiva su un ampio raggio di territorio, non solo in Italia. Numerose le persone coinvolte a vario titolo e ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, lesioni dolose ma anche rapina, detenzione, eccessione di armi. E adesso un fatto di cronaca che arriva da Venezia. Tentava di rubare le offerte dei fedeli. Arrestato un 38enne accaduto in campo Santi Apostoli nell'omonima chiesa. A chiamare il 113 è stato il custode dopo aver sorpreso un uomo a forzare la cassetta delle offerte. Mentre chiamava la questura il custode è riuscito anche a tenere bloccato il soggetto al quale gli agenti hanno trovato nel giubbotto gli arnesi da scasso. Si tratta di un veneziano di 38 anni già cravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato dunque arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per il reato previsto. Il pubblico ministero ha disposto nell'immediato gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che doveva avvenire questa mattina. Parliamo di clima perché nelle regioni del nord è previsto maltempo. Allora sentiamo un attimino la situazione per la quale almeno in Veneto è stata emessa l'allerta gialla. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso lo stato di allerta gialla che corrisponde a stato di attenzione per i comprensori idrografici del Piave e Pedemontano e dell'Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone. Fino al pomeriggio inoltrato di martedì sono in atto precipitazioni estese e frequenti sulle zone centro-settentrionali a tratti intense con rovesci e locali temporali. La fase più intensa si dovrebbe registrare tra il tardo pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì con quantitativi anche abbondanti specie nelle zone pedemontane e montane. In seguito i fenomeni si faranno più discontinui e irregolari con precipitazioni meno significative sulla pianura meridionale. Il limite delle precipitazioni nevose sulle dolomiti in genere è intorno ai mille metri, martedì anche più basso localmente fino a 600-800 metri con accumuli anche consistenti sopra i 1200 metri. Fino a martedì inoltrato saranno possibili anche venti molto forti. Dunque come avete sentito è stato di attenzione in Veneto e torna anche l'acqua alta a Venezia. Sono attesi nelle prossime ore forti venti di scirocco su tutto l'Adriatico. Il centro Marea ha diramato un avviso con le previsioni di un picco massimo di 110 centimetri alle ore 2 di domani 3 marzo. Dunque termina qui questa edizione del telegiornale. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con Telecittà. Arrivederci.